Vedo AppFace come un servizio incredibile per tutti gli imprenditori e soprattutto un qualcosa che ho ottenuto dei risultati pazzeschi perché senza Sebastiano non avrei mai avuto tanti clienti, nuovi clienti, da un raggio molto lontano non sarei mai riuscito a recuperare tanti veramente clienti così Allora per me il punto forza di AppFace è stata una cosa molto semplice primo puntualità, secondo sincerità e obiettività non mi hanno raccontato tante storie che mi faranno diventare l'uomo più ricco del mondo mi faranno della mia azienda mettendo un euro, mi faranno tutte le cose però sono stati chiari fin dall'inizio, mi hanno esposto quello che loro possono fare mi hanno dato delle strade da seguire e mi hanno detto possiamo fare da A a B in questo determinato tempo, dobbiamo lavorare, dobbiamo farci il mazzo però otterrai questa determinata cosa dopo puntualità, professionalità e soprattutto verità anche nei rapporti e poi ti posso dire anche che un'elevata così professionalità ad un rapporto qualità prezzo come ho trovato in AppFace non l'avevo trovato nelle altre aziende oltretutto perché tante volte vediamo la pubblicità, vediamo anche lavorare in Facebook lavorare in Instagram come sia una cosa bisognosa ma che non ce lo possiamo permettere invece qua abbiamo trovato una cosa professionale ad un prezzo equilibrato per un piccolo imprenditore, per una piccola azienda che può rispondere anche a livello di budgeting e permettersi un'opportunità come questa di giocarsi anche i social Allora consiglieresti AppFace, quando mi fanno questa domanda su tanti prodotti o tante cose sono sempre un po' restio perché tante volte hanno la società, l'azienda a cui mi sono rivolto mi danno tante aspettative, mi dicono tante cose, otterrai questi risultati per cui ti creano un'aspettativa talmente alta che dopo quando tu sei nell'iter hai pagato, hai comprato, hai firmato il contratto, ti rendi conto che c'erano delle piccole clausole delle piccole righette che veramente non sono soddisfatte completamente invece AppFace in questo caso è stato completamente il contrario è stato che prima mi ha detto chiaramente cosa lei fa mi ha detto cosa possiamo arrivare insieme, il percorso da seguire l'iter che possiamo avere, i risultati che possiamo raggiungere poi mi ha anche detto logicamente quanto costa e per cui è stata una bellezza enorme perché dopo che ho aderito e che ho aderito e iniziato a collaborare con AppFace ho ottenuto non solo i risultati che lei mi aveva detto ma posso dire quasi dieci volte in più i risultati che avevamo messo sul piatto questo perché sono state fatte le cose sia da parte mia che da parte dell'azienda di AppFace in maniera veramente eccezionale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti